Ansa, Milano, 18-8, nel 2001 andò a votare il 34%, mi aspetto di superare quella quota del referendum costituzionale sul titolo quinto. Ogni voto in più sarà un successo. Lo ha detto Roberto Maroni parlando dell'affluenza attesa al referendum sull'autonomia di domenica, rispondendo a una domanda alla conferenza stampa con Silvio Berlusconi a Milano.